salve ragazzi benvenuti alla sesta puntata dello sbanca vlad oggi faremo tre schedine la prima è il nostro raddoppio sarà marcatore di bala un po inusuale ma oggi secondo me di bala segnerà il 90 per cento quota 2 giocatelo se volete fare questa follia marcatore nei primi 15 minuti quota 11 perché la casa non è la juve farà un'ottima partita oggi specialmente di bala può fare pure doppietta o questo sentore poi ho selezionato a 10 gol di cibo il gol che sono eintracht borussia dortmund barley norwich lione pesce perder brema l'ipsia celsi liverpool il gol per eccellenza per eccellenza atalanta fiorentina ieri ho dato anche una picca nelle storie di instagram riguardante questa partita wolfsburg wolfsburg hoffenheim west ham manchester united civilia real madrid e bologna roma più tardi verso luna probabilmente in contemporanea con l'uscita del video metterò una storia instagram con la schedina intera magari potete fare uno screenshot se volete giocarla in maniera uguale così ve la ricopiate pari pari come è stata fatta poi c'è ai ragazzi un sistemone che secondo me è una cosa di fantastica uno everton ha fatti bellissimo con lo sheffield uno e 80 quota quota giusta giusto per giocare poi bologna roma ho fatto non è una combo sono due quote separate che formano il sistema in pratica nessuno o verino primo tempo ovvero un e mezzo primo tempo e e over due e mezzo secondo over uno e mezzo secondo tempo sono messo separatamente o l'uno o l'altra ok come gli x e gol l'x e gol infatti è newcastle brighton x più gol altra quota over 0 e mezzo primo tempo all'atletico ovvero la partita non devi finire 0 a 0 il primo tempo non devi finire 0 a 0 raga semplice col selta una partita che secondo me dovrebbe sbloccarsi dopo poco perché il selta è una squadra che prende prende gol vuole farli li fa quindi potrebbe anche andare in svantaggio l'atletico l'uno non mi convince perché raga il selta è una squadra complessa una giornata ne prende tre una giornata ne fa quattro strana strana quindi vabbè lasciamo così 2 del borussia con l'intracht secondo me raga è regalato no non regalato un attimo una quota 1 e 75 raga l'intracht non è informissimo ma l'ho giocato anche con il gol anche perché stranamente è difficile che l'intracht in due partite non faccia un gol due partite in casa non faccia un gol quindi però per me il borussia è nettamente più forte e ha giocato un giorno ha avuto anche un giorno di riposo in più rispetto all'intracht quindi poi over 0 e mezzo primo tempo marsiglia Montpellier alle 5 e mezzo oggi over 2 over il West Ham con lo United e over il Werder con l'Ipsia segna entrambi i tempi il City contro il Watford e per finire overino secondo tempo Vinese e Brescia quota 2 e questa per esempio è una quota da raddoppio secondo me raga oggi c'è molto da giocare scrivetemi nei commenti se volete una schedina solo con le partite di domenica nel caso in cui non riuscissimo ad essere in corsa con queste due schedine ciao ragazzi buon weekend giocate responsabilmente mi raccomando se volete ottenere il 75% di sconto per amanti on prime, Netflix, Apple Music, Spotify e tanto altro ed avere anche 2 ore e 5 per regalo cliccate su link e vedete il prezzo in descrizione ciao ciao ciao